Cari contadini, con la mia fine ha inizio la caccia al tesoro, ma fate attenzione perché la vittoria è riservata solo a coloro che con astuzia, gambe ed esperienza del proprio passato riusciranno a districarsi in questo percorso che vi ho riservato. Purtroppo non ho parenti a cui lasciare i miei averi, per questo ho scelto voi come miei ereditieri. Non volendo tra voi scegliere o preferenze azzardare, chi vorrà la mia eredità se la dovrà conquistare. Solo coloro che riusciranno a trovare il mio testamento, di tutte le mie terre trarranno ricchezza e giovamento. E' apposta lì con il dritto. Potete iniziare. E' apposta lì con il dritto. E' apposta lì con il dritto. Non lo spingiamo, eh! Oh, quella palla! Oh, Simo! Ancora dare via?